È notizia di oggi che la prefettura di Como ha pubblicato un bando per l'accoglienza degli immigrati clandestini, un bando da 18 milioni di euro, sì, 18 milioni di euro che verranno spesi in tutto il 2016 per dare accoglienza, vitto, alloggio, per pagare le ricariche del telefono a immigrati, clandestini e profughi. Una vergogna, 18 milioni di euro che potevano essere spesi per i cittadini comaschi in difficoltà, per i cittadini comaschi che vivono sotto la soglia di povertà, per i cittadini comaschi che non riescono più a mettere assieme il pranzo con la cena. Ormai siamo al razzismo al contrario, è una discriminazione al contrario, coloro i quali vengono discriminati non sono gli immigrati, ma sono i cittadini comaschi. E' una vergogna che in un momento in cui noi abbiamo circa 50 mila cittadini del nostro paese che non hanno la casa, che vivono in mezzo ad una strada, che sono senza dimora, pensare che il governo Renzi e Alfano continuino a stanziare soldi, soldi dei cittadini del nostro paese, soldi dei cittadini comaschi per dare accoglienza, per dare ospitalità a chi nulla ha a che fare con il nostro territorio. La Lega, anche rispetto a questa iniziativa, è pronta a proteste durissime. Faremo le barricate affinché questi soldi, soldi dei comaschi, vengano utilizzati solo ed esclusivamente per i cittadini comaschi.